no seduto ti prende il corpo prova aveva già provato aveva già provato il poliziotto dai dai bravo e basta su prometto in settimana veniamo a mettere la scaletta auto mettiamo a seconda e piano torniamo indietro che ci divertiamo di più andiamo indietro allora torniamo indietro per fare tutto il giro che abbiamo creato l'anno prossimo ascolta io l'ho portato Pausto io di là ho portato solo la scaletta da solo a piedi hai messo giù la scaletta? non ancora l'ho portata su ed è chi scende di qua faccio prima a fare la scaletta chi cazzo scende di qua? C'è chi cazzo scende di qua? MA C'è chi cazzo scende di qua? sti che cazzo scende di qua? no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusa. No, smetti. Aspetta. Bastardo c'è. Se lo lasci andare forse è meglio. Ho detto io di lasciarla. Hai ragione perché? Non devi fare niente. Perché si accoglie. Se la prende ti fa paura. La lasci andare. È peggio in salita. Anche perché appoggiavi il davanti. Sì, è peggio in salita. Sennò appoggiavi il davanti e poi te ne vai. Quando hai messo l'avanti come ho fatto fatto a fare io. Quasi in salita la rifaccio. Vai, fa felico giù. Dici di no. Volevo rifarla. È più facile in discesa effettivamente. È vero. È un po' di salita. Ambo, siete qua. Tutta cazzo di cosa. Ma che palle che siete. Allora. Vai. Ma te perché porti via i castani? Vai. Il quartiere si aiuta a fare la pelle. È cazzo. Bravo. Bravo. Forse, forse è meglio di là. Guarda. Se c'è un po' di peda è meglio quello. Molto meglio. Eh? Perché ti fa la rampa. Top. Ti fa la rampa, no? Qua. Il cazzo sede non si ferma davanti a chi. Ma lì ho pulito la rampa. Oh, si può fare anche di là, eh? Sì, è pulito per farvi di sospirare. Sì. Bella, eh, Sere? È bello di qua fare. Un po' più andato. Bravo. Sì, perché? Ti fai a toccare la coppa. Non ti racconta. Ehi. Ma facciamo il giro nuovo? Come siamo a chiedere. Ah, ah, ah. Ehi, oh ma facciamo il giro. Eh, scotta. Eh? 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 Rappi! 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 Grazie a tutti.